Allora, vedete questa collana? Questa collana è stata ricavata dal recupero della plastica. Cioè, è stata ricavata da gente, da persone che recuperano oggetti di plastica che noi normalmente buttiamo, li recupera e li trasforma in oggetti. Gli oggetti possono essere questa collana, possono essere dei cestini, dei sottopiatti. Insomma, recupera questa plastica e fa questi oggetti stradati. Dietro ogni dischetto c'è un mondo, c'è una storia di sofferenza, di fuga, di abbandono della famiglia, di incertezza sul futuro, di guerra, di morte. Ecco allora, quando guardate questi oggetti, ogni volta che guarderò questa collana, mi ricorderò da che parte arriva. Grazie. 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 Grazie.